voglio essere anch'io fantastici selfie grande, grazie amiche andiamo a conoscere questa sposa magnifica non ti passare, mi fai sentire in un bagazzo allora come ti chiami? Alice Alice, fantastica Alice da Pinerola, in provincia di Torino Torino, neco, Cristino fantastica, con chi ti sposi Alice? Manuel ciao Manuel ciao ciao allora quando ti sposi? il 10 ottobre ti raccomando, è tutto a Torino per l'Angela con il oddio che potenza ragazzi, una potenza di questa ragazza è l'amica esplosiva allora cosa ti aspetti dopo il sì? una vita felice cosa veramente come? di petto? fa l'ora bene come la prendi la vita di petto ma cosa la rida? vado a me premiamo di petto vai bella situazione di petto aspetta aspetta guarda, guarda, guarda il picchiere guarda il picchiere ragazzi vi vogliamo salutare così 3 2 1 guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda Grazie a tutti.